ma allora mi dici come si nutrono le piante facciamo il giochino quello con i calzini e anche con il pennarello va bene dimmi un po come si nutrono le piante le radici prendevano le radici prendono i sali minerali prendono l'acqua e anche i sali minerali e che cosa fanno? li fanno passare dentro un tubicino come si chiama questo tubicino che c'è all'interno della pianta? si chiama linfa grezza si chiama linfa grezza bravissimo e quindi dove arriva questo tubicino? fino? fino agli alberi fino? fino alle foglie fino alle foglie bravissimo e poi le foglie che cosa fanno? che cosa fanno le foglie? un piano respiro respirano che cosa respirano? l'anidride carbonica respirano l'anidride carbonica e poi e poi che cosa fanno anche? che cosa fanno le foglie poi? che cosa prendono? si riscaldano e quindi che cosa fanno? prendono la luce prendono la luce la luce di chi? prendono la luce da che cosa? del sole bravissimo allora ripetiamo quindi le foglie che fanno respirano prendono l'anidride carbonica e prendono e prendono la che cosa prendono? la luce del sole bravissimo ok adesso mettiamo giù i calzini perché dobbiamo prendere il penna il pennarello allora perché adesso spieghiamo che dentro la pianta c'è un altro tubicino che va va sempre all'interno sta all'interno della pianta ok c'è un altro tubicino che cosa fa? che fa scendere giù tutti gli z tutti gli zuccheri che servono alla pianta per? per fare? per fare? per fare nuove? nuove che cosa? nuove foglie e anche nuovi? e anche nuovi rami e anche nuovi rami bravissimo e come si chiama questo tubicino? quello che scende come si chiama? si chiama linfa? e la? linfa elaboro elaborata si chiama linfa elaborata bravissimo infine che cosa succede? le foglie che cosa? che cosa buttano? cosa succede? bravo che cosa fanno uscire? l'ossigeno fanno uscire l'ossigeno qui e poi? e anche? che cosa buttano fuori? il va? il vapore acqueo il vapore acqueo che cosa è il vapore acqueo? sono le goccioline d'acqua che cosa? dove? che sono che fanno le goccioline d'acqua? che vanno? che vanno? o lassù? su dove? su? su l'albero su nel? su nel? su nel? dove? le goccioline d'acqua che vanno su nel? o nel cielo? che vanno su nel cielo? bravissimo! quindi le foglie respirano e poi traspì? e poi traspirano e poi traspirano! bravo! come sei stato? bravo! bravissimo! faccia ciao! ciao ciao ciao! un bacio che bravo!